Buongiorno, siamo con Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e sanità pubblica e direttore della scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Professore, un piacere averla a nostro ospite. Piacere mio. Ecco, professore, il Covid, i virus emergenti e il cambiamento climatico continuano a creare problemi. Perché è sempre più importante quindi parlare di salute planetaria? L'importante è parlare di salute planetaria perché bisogna aggiungere una dimensione, appunto quello del pianeta Terra, a quello che ormai già noi sappiamo è importante per la salute, cioè cercare con la One Health di contemperare la salute dell'uomo, la salute degli animali e la salute ambientale. Però c'è anche un aspetto che è sempre più importante che è quello sociale e quindi integrare l'aspetto sociale significa parlare e capire a tutti gli elementi che fanno sì che il nostro pianeta Terra possa in qualche modo prosperare e con questo sopravvivere adeguatamente tutte le specie, sia quelli animali che umane, che naturalmente oggi sono in grande difficoltà. Ecco, proprio su questo tema il 3, 4 e 5 ottobre si terrà a Verona il Planetary Health Festival, organizzato da Edra e Eltival proprio per promuovere la consapevolezza sulla salute del pianeta, come lei diceva, tema su cui appunto lei si dedica da anni e evento di cui lei è presidente del comitato scientifico. Ecco, perché è importante portare avanti eventi di questo genere? Perché è importante aumentare la consapevolezza nella popolazione generale, sono decenni che gli scienziati del clima e gli epidemiologi mettono in allarme, però pare che i governi di tutto il mondo non ascoltino e continuino ad andare per esempio sulla strada dei combustibili fossili che sono la principale causa del riscaldamento globale. Siamo un po' come delle rane che stanno bollendo lentamente e non si accorgono che stanno andando incontro a una catastrofe. Allora è importante sensibilizzare i cittadini, fargli capire che il loro ruolo può essere importante nello sollecitare i governi a prendere le decisioni, purtroppo non lo stanno facendo, e anche far capire che ci sono già delle buone pratiche, ci sono delle iniziative che possono, se non essere risolutive, comunque mitigare gli effetti per esempio delle ondate di calore che stanno diventando sempre sempre più importanti e sempre più negative per la salute umana. Quindi cercare di fare insieme un passo avanti verso il salvataggio del pianeta. Perfetto professore, la ringrazio per il suo contributo, allora le auguro un buon lavoro, grazie. Grazie altrettanto.